Mi fate mandare un saluto a Novi Ligure per favore, c'è il mio amico Ivan sperduto nella neve però è vicino alla fabbrica di cioccolata Ah beh se fosse una persona, Novi Ligure, come si chiamano i Novi Liguresi? Forse sì, Ivan facci sapere come si chiamano da quelle parti, copriti che mi torni se no che stai male, portami la cioccolata Novi Liguri e basta, comunque non hanno segnato per i difensori d'Atalanta Ma io credo fosse un riferimento al fatto che è lo svarione dell'avversario, credo intendesse questo Ma Castagna e Gosens possono essere definiti difensori, terzini anche se poi giocano in maniera molto offensiva nell'Atalanta sulla linea dei centrocampisti Pasalic è praticamente un trequartista, non è assolutamente un difensore L'altro questa è una caratteristica incredibile che ha l'Atalanta, l'Atalanta manda a segno costantemente gli esterni dei centrocampi Cioè Gosens è diventato un goleador, lo scorso anno non ne faceva tanti Ateborg, quest'anno Castagna, insomma è veramente una squadra che... Avevi detto basta Atalanta? Basta, sennò diventa Tile Radio Atalanta e Rocchetti non viene più Tile Radio Bergamo? Tile Radio Bergamo Prendo le difese se posso di Pierone da Padova, ma non sul tema imitazioni, là non possiamo difenderlo No, è indifendibile, sembra solo Max Buongiorno È indifendibile, però lui è sempre stato solito mandare vocali anche ad altre radio Sembra Mike Buongiorno anche quando fa, non lo so, Luca Barbarossa Sì, è sempre diviso tra le varie emiscenti Ma ragazzi, ma guarda che tantissimi di voi all'ascolto sono ascoltatori tasversali, tantissimi fratelli E va benissimo, quindi qual è il problema? Basta riconoscere che TRS sia la migliore realtà Ma mi pare evidente, infatti poi sai sempre come... Qua ci fa tanto piacere E stiamo lottando per restare a certi livelli Il picco verso il basso è inesorabile, questo lo dicono i dati alla mano Ma Rocchetti ha rialzato impensabilmente la situazione Pezza, per colpa della tua cipolla, cioè se tu la eliminassi torneremmo in alto Ma come? È cipollone, funzionava È cipollone, funzionava Però la sua Quella devale? No, la mia Ma lasciate stare il cipollino di Cotto, che è bellissimo È mia, è cipollito Vieni, si è fatto questa sfumatura un po' più aggressive È vero Ho scelto di... Un po' da chiappo Invezione ragazzi, a breve un primo piano della cipolletta di Cotto sulla nostra pagina Verrà pubblicato sulla nostra pagina Sono orgoglioso Commento libero, commento libero ovviamente Orgoglioso di questo, veramente Vedremo, ne parleremo, faremo qualcosa Sentite, nel frattempo vogliamo lanciare il post e andare di tendina? Così facciamo la saccombo? Lanciamo il post, lanciamo il post Tutto uno Ah, eccola là Cipollina Ma eccola lì la mia cipollina Farina, guardala Carina, dolce, piccola Ma c'è che gli fanno a lei Sono un po' preoccupato ragazzi, ma c'è un accenno di estempiatura o no, secondo voi? Ehm, no No, infatti, non c'è È attaccatura alta Guarda, hai 3.000 altri problemi Hai 3.000 altri problemi Comunque non credo che faccia piacere ai nostri telespettatori Così sembra un coso Mucchio dei pelli sotto la doccia posticcio No, ecco Ehm, così da vicino sì Non le rende giustizia questi inquadratori Rocchetti sta andando in bagno e non per fare i bisognini Allora Per fare altro Sì, presentiamo il post Io voglio mandare una lettera a Ronaldo comunque A Ronaldo? Sì, perché tra fascette e cappellini Una roba di un cattivo gusto che non lo so Che da l'uno me l'aspettavo Sì, poco a poco la scuola si stanno salendo Scusa È un anno e mezzo che stanno Avete imparare l'italiano? E basta Sì, capire L'asbio è qualcosa Se impara l'italiano No, impara l'italiano Eh, vabbè Intanto le avete sto capito Ma lui è internazionale Scusatemi, ma l'Italia non è buono Non è buono Ma è meglio di tanti altri Scusa, Micò, tu vai al post Sì, premetto Impiegherò più tempo io a leggere il post Che Alessio Nardo a fare la tendina Perché? Voglio leggerlo molto lentamente Fai tranquillo Se mi riposo Voglio impiegare dieci minuti a leggere questo post Stai sereno Beh On Air Te devi impegnare la cifra Cotunardo Potrebbe anche degli incisi Per esempio abbiamo taggato la nostra pagina Cato Cotunardo Bravo, bravissimo Si può cliccare Anche lì c'è un altro Second post Addirittura stamattina Un'accia beffata Cotumaccio Stamattina è una cosa incredibile successa Ho messo La localizzazione per mettere una storia su Instagram Sì, racconta questa cosa E volevo mettere tele radio serie come luogo Sì Mi è uscito Cato Cotunardo Con il nostro indirizzo E Paolo ha fatto il solito commento Qualunquista Siamo controllati No, di casa, della radio Ma dai chisi Ragazzi, cioè Ho volato Complottista Un attimo di mitomania Siamo controllati Ma bello che Sì, effettivamente Non c'è niente di bello C'è ragione Paolo Però voglio vedere il lato positivo Sì, dai medici È stato un attimo di riconoscimento carino Insomma La localizzazione ci riconosce Come Cato Cotunardo Ma poi possiamo dire una cosa Chiediamo scusa all'editore Non volevamo appropriarci della proprietà Mi unisco ovviamente Le scuse Ci mancherebbe altro Quando diciamo siamo controllati Ci indirizzano alla pubblicità Posso dire meno male Perché mi devo vedere pubblicità Dei Vustel Che non me ne frega niente Invece magari in base In base ai miei gusti Mi seleziono la pubblicità A proposito Vogliamo ricordare anche il post Che mi ho pubblicato Anche sulla nostra pagina Stavo facendo un discorso Perché mi hai interrotto Tagliandomi le gambe Ha detto che voleva metterci dieci minuti Ma era un discorso inutile L'ho premesso L'ho interrotto per ripetere la traduzione Io lancio il post quando mi pare Quando Lo decido io Torna a casa e stai zitto Ma tu sei nello spazio tendina Quindi sei in questo momento Hai ragione Sei un abusivo Hai ragione Tu sei un abusivo Quindi ti concedo di lanciare il post E fai in frese Ma che bella questa foto L'ha messa Alessia L'ha messa Alessia Esattamente La sua notte insonne Ma Fonseca si sta baciando tutti Quindi scusa Guardate Floressi rosica fortissimo Ormai Alessia sta diventando Un esperto mematore Andate all'ascolto Sulla nostra pagina Mettete pure mi piace E andate a vedere questa foto Che è meravigliosa Che sono Appunto Vogliamo ricordare anche La classifica di Girone Io veramente Ragazzi Allora Sulla nostra pagina c'è In esclusiva La classifica del Girone Di Europa League Che leggiamo Alessio Nardo No? Leggi da te A capolista Il Borussia Masterchef Insieme alla Roma A braccetto Con sette punti L'Istanbul Palizzi Che ricordiamo Cosa? Un club Noto in tutto il mondo E all'ultimo posto La Vustel Esatto Che è il nostro avversario Stasera L'altro buone Mi piacciono tanto Vustel Dipende come Sai che dipende Ci sono dei giorni In cui mi mangio volentieri Altri giorni Mi fanno schifo Se sono buoni Cioè di qualità A me Semplicemente sbollentati Ricordiamo Anzi Grazie ad Alessio Anche per aver ricordato Il grande ritorno Di Rino Gattuso Valentina Catoni Caro Mirko Bonocore Ricordiamo La Catoni Che imita Gattuso Un contributo Che è rimasto Probabilmente Impresso Nella storia Eccola là Delicatissima Il nostro posto Invece Sulla pagina Teleradio Stereo Stasera ti gioca Roma Falsberg Falsberg Ah non è Roma Fustel Non è Roma Fustel Non è Roma Fustel No Neanche Fustelberg Se possiamo abbassare un po' Questa base Bellissimo C'è bellissimo Quest'idro Vabbè cantiamola Io Palizzi Ma perché Palizzi Sta sempre in mezzo Paranime Fallo dormi in pace Siamo dai Fustelberg Dai principi Dai principi Riccardo Carrone Il grande Riccardo Carrone Voi legge a sto posto Stiamo di sto posto Davvero Se non se ne assi La sigla dell'Europa League Non riesco a parlare Bellissima Ma c'è un problema Sei licenziato Tra 3, 2, 1 Ma te raccorgi se c'è un problema Guarda Io faccio notare Io devo Solo se lo guardi in faccia Ne trovi 10 Di cosa? Di problemi Ma non è vero Ma dai Anche 30 pregi Dai Guarda come puzzone pure lui Dai Ora posso leggere il posto Leggi sto posto Forza Oh basta Di chi non fareste mai a meno In campo stasera Questa è la domanda Leggiamo Vengo di là E ti strozzo In sottofondo Il lino del Nepal Quindi di chi non fareste mai a meno In campo stasera Le vostre risposte Su Facebook Su Twitter E al nostro numero Whatsapp Il 3, 4, 2 7, 9, 1 2, 3, 6, 2 Mastro questa foto Che tu hai scelto Non è una foto Da tecnico romanista Bravissima E' una foto che può essere Ingannevole Esatto Perché può sembrare La foto di Fonseca Allenatore della Roma In realtà Questa foto venne scattata A Paolo Fonseca Nel marzo del 2017 Anzi attento Marzo 2018 Solo un'occasione Di Roma Shakhtar Donetsk 1-0 Goal di Come? Goal di Roma Shakhtar di Di Dzeko Di Dzeko Su assist E' fermo E' tamburelli Il petto La panza La panza Stasera c'è Roma Fustenberg Io mi so contenere Tutti i guazzo Poi non lo so Grande contenio Mi dice Con la panza Che mi arriva al collo Scusa Ma non è un buon motivo Per offendere i familiari Ma come no? Scusa Di me non mia zia Io non ho specificato Noi siamo dai Fustenberg Ancora È l'ottava volta Che mangiamo questo contatto Guarda che ci parte Lusti cavoli E' come è possibile Va bene Dicevo fuori dai convocati I 48 infortunati Della Rosa della Roma Zappacosta Santon Smolling Cristante Pastore Oltre a Fusato E Setin Fuori lista Convocato Lorenzo Pellegrini E questo ci fa molto piacere Molto Prima convocazione Gli facciamo un bell'applauso In prima squadra Per Luca Chierico Bravo Classi 2001 Centrocampista Ha firmato ieri Ha firmato Guardiamo Appena Contrattualizzato No? Sì A lungo termine Non fare come al solito Che arrivi su Bodori E poi te fa male Cioè Arriva su Bodori A cresci Diventa bravo E gioca con noi Ricordiamo la particolarità Di questo ragazzo Su Bodora È ruscio Come Il padre Come il padre Che ricordiamo Figlio di Odoacre Dodo Chierico Campione d'Italia Con la Roma Nell'83 Va sempre ricordato Pazzesco Quanto da rapa Mi sta morì Vabbè A rapa forse è eccessivo Capito Affascinante È caldo Nel senso educato del termine È proprio bello da sentire Però Se parla così Perotti è un conto Se parla così Federico Madonna Federicone ragazzi È l'esorcismo di Federico Andato al dentista Allo Torino Che sta a fare? È il dentista Che sta togliendo È il dentista Che sta togliendo E come ti giocava bene Fede Che poi ti chiesto Lo sai chi è il dentista? Chi è? Ciabattini Ma ciabattini Ma ciabattini non c'è più L'hai mangiato Spesso a fare il dentista Ciabattini L'hai mangiato tu Un dramma Ciabattini ha preso il poto Nel mio cuore Flavio Maria Tassotti Fazzi possiamo raccontare La realtà sull'infortunio Di Smalling Com'è andata veramente? Ma che cosa Cosa è l'intesta Che cosa è l'intesta Che cosa è l'intesta Che cosa è l'intesta Semplicemente La cipolla Dai anche alcuni tuoi amici Portavano la cipolla È vero Cosa mi hai chiesto Cosa? Cosa mi hai chiesto La realtà sull'infortunio Di Smalling Sappiamo Dici la verità Fede Ero siccato forte Perché non ti faceva più giocare Durante la notte Ecco Sentiamo la storia Eravamo in ritiro Sì A Castelnuovo di Porto Ma come a Castelnuovo di Porto? Eh lo so Sono i posti segreti Dove c'è porta il meter I posti segreti D'altra parte rispetto a Trigori Castelnuovo di Porto Vicini naziali Va bene E quindi E ho andato lì E durante la notte Sono entrato nella camera di Chris Sì E che cosa ha fatto? E gli ho fatto Buonasera Cosa abbia reagito bene Così Smalling Buonasera Nell'oscurità Il mio caro compagno del reparto Che mi hai fottuto il Porto No è proprio così Come estas? E lui ha fatto in tempo a dire bene? Che ho dato un mozzico sul ginocchio E l'ha provocato la lesione Dele gamentosa De quella all'altro De quella all'altro Del ginocchio De quella all'altra La caviglia De la gomma L'ha mozzicato un ginocchio E è andato all'altra gamba Abbiamo capito Quella è la causa degli infortuni Finalmente Federico Fazio Sì ma di tutti proprio gli infortuni Vabbè adesso cerca di giocare almeno bene Ma sveglio anche un segreto Su Pastore Prego E ho mangiato il cuore Ma perché? Che non è manco il ruolo tuo Ci serviva comunque Però sappiamo che tra Fazio e Pastore Che cosa? No vabbè Si riceve Almeno i primi mesi Che non scorresse buon sangue Fra i due Ma perché però? Ma che ne so? Scaramucce Ma non lo so Magari sono tutte sciocchezze Sono amici dello stesso compagno di squadra E sono gelosi? Vabbè Semplicemente Pastore Era amico di Ciabattini E questa cosa a Fazio Mi piaceva Arrabbiare Fazio Buongiorno ragazzi Ma è vero che Il buon Rocchetti Non ha potuto Finire la comunione Perché c'era il prete Che si arrabbiava sempre Perché per lui Rimaneva sempre seduto Qualsiasi momento della funzione Ve lo confermate? Grazie Grazie Paolo 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 Ma perché non l'hai Perché non l'hai detto Rocchetti Tele Radio Stereo Ciao Eccomi Qui Gianluca Eccomi Ciao C'è l'Atalanta Che si gioca Praticamente tutto X2 1 e 48 Paris Saint Germain Galatasaray 1 Atletico Madrid Locomotive Mosca 1 perché L'Atletico non vince Da 6 mesi però Bayern Monaco Tottenham Si divertiranno Quindi partire Ricca di gol 0 a 0 Chiaramente Però gol Secondo me Olympiacos Stella Rossa 1 a 1,50 Una bella quota Poi chiudiamo con Dinamo Zagabria Manchester City Eh? Inutile Si può dire Partito del Beh X2 Oddio Rocchetti Ti ha preso il picchietto Paolo Pa Perché non l'hai detto L'ha detto Paolo Segnate pure Quando dice le cose fatte bene Bravo Paolo Rocchetti Buongiorno Paolo Buongiorno Buongiorno a tutti Non solo ha preso il picchietto Ma in due giornate Ne ha sbagliata una sola Quella Ajax maledito Ragazzi Possiamo dire Ajax Ajax A maledito Sennò facevamo L'unplay Se no era unplay Ragazzi Con la Champions Va fortissimo E' andata bene E' andata bene Ieri grande commozione Negli studi di te E' ero ma 56 E' stato un bel momento Si è reso conto della vittoria E tutti gli hanno fatto le feste Come se fosse un piccolo cucciolo Di cane Un piccolo carlino Un piccolo carlino Esatto Pensate Ha tirato fuori la giocatina Si era giocato Non l'ho giocata Si era giocato i suoi 5 euro Per vincerne 7 e 40 Ricordate Noi quando vinciamo Non le giochiamo mai Sarà un grande Natale Un grande Natale Roba di tumbole importanti Ragazzi Eh già O se non facciamo una tombolata Beh Io vi fai la tombolata Agni 80 Poi gioca da carte Ogni Natale Io ho già 8 scene Premotate Nesto Natale Se non si vediamo Una scena prima di Natale Siamo proprio degli stronti Io non voglio Ma già io voglio giocare Non si vediamo Ma perché Dove andate Che succede poi dopo A tutti Non abbiate l'ansia Quando Natale arriva Anche il prossimo anno A un spammo Che non si vediamo più Fino al 2020 A me ne sono arrivati 600 messaggi Cioè Tu puoi tutti a cena Che tristezza La cosa bella del Natale E' questa E' magna E' che se può magna Senza avere sensi di colpa Tu lo fai comunque tutto l'anno Ho i sensi di colpa Durante Evidenti Io ne nascondo Durante il primo natalizio Si può magna Senza neanche avere Pecata E' Natale Che fai E' Natale Che fai Io non risponderò più Ai vostri messaggi Non verrò Ma che c'hai l'alitosi A Natale O l'altosi Che hai detto c'hai l'alitosi Che ho detto l'alitosi L'alitosi O l'alitosi Pensa a la fiatella tua Credo che venga pure l'alitosi Io non ho la fiatella Sentite Torniamo seri Perché Paolo Che è concentratissimo Vediamo se riesce a fare Anche il miracolo Dell'Europa League Che è complicatissima Si vince in Europa League Basta Non si gioca più Ma stasera chi gioca Sfignoplapius Più o meno siamo lì Più o meno siamo lì Tutti uno Tutti uno Incredibile Ma attenzione Una sfida di uno Una sfida Una sfida la statistica Sta squattando Gara è molto interessante Senza dubbio Se fa venire Senza di corpa Durante tutto l'anno E il problema È che si mangia pure quelli Però Ecco Donne Rocchetti Non gnocco Forza donne che vado via Scusate Bravo Paolo Chi è? Il tempo con te Marino Gallant'uomo è stato Gallant'uomo Gli sfotto di Alessio e di Riccardo Ti hanno temperato Bravo Marino Ah però Grande Marino Hai capito che roba? Che rende onore e merito Giustamente al nostro Paoletto Paoletto Europa League Allora Dinamo Kiev Lugano Uno Beh Lugano Riccardo Scuota Vorrei No Un commento sul Lugano Beh Lugano è una squadra puntuale Devo dire Raramente Raramente manca l'appuntamento Ma che aggettivo è per la squadra Quindi vedo In realtà vedo un due Beh se andiamo tardi Si squalificano Con questa notizia Oh me l'hai chiesto tu Penso se vince Lugano Che brutta figura che fai Paolo Uno della Dinamo Kiev Poi Carabag Doudelange Del Doudelange Che pensi? Doudelange è una squadra molto allegra Sì Che sa divertirsi Abbiamo squadra brasiliana Che si diverte Sa divertire Però gioca in Europa Però gioca in Europa Per strani motivi Io vedo anche qua Però se anche io vedo Vedo la sconfitta Del Doudelange Sì Paolino L'Eintracht contro il Vittoria Ghimaraes Uno Qui c'è poco da dire Una grande rivelazione Contro una squadra di media Bassa classifica Mi ripeti la partita? Eintracht Vittoria Ghimaraes Eintracht Vittoria Ghimaraes Poi Pesve Eindhoven Rosenborg Un pensiero Se c'è il Vittoria Ghimaraes Ci sarà anche la squadra Della stessa città I cugini Diciamo E quindi? La sconfitta Ghimaraes Ma sei veramente Un cretino Ce l'ha anche interrotto Io ti stavo anche seguendo Soprattutto Io pensavo Dico dove vuole arrivare Non tanto sul PSB Non tanto sul PSB Ma sul Rosenborg Una squadra colorata Colorata Forse è un po' fredda Rosenborg No 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 Rosenborg è colorata Ma contro chi gioca? Rosenborg Getafe Krasnodar Uno Krasnodar è una squadra Molto cattiva Quando scende in campo Con la cattiveria giusta L'aggressività Gioca molto alta Bene Gioca alta Oltra Il bello è che lui Con queste fregnacce C'è campata anni Ma come c'è campata? Roma Fulsberger Ecco qua veramente Uno Che cosa dire? Cosa dire? Semplicemente Uno della Roma Contra una squadra Che ha ancora poco da chiedere Ormai a questa competizione Non chiederemo che chiederemo niente Basta Non chiedessero altro La sapete questa cosa? Sì La sapete questa cosa? Sta lavorando Io do delle nozioni Si lavora Io do delle nozioni Nozioni Prego Nozionaci Perché voi sicuramente Illuminaci Penserete Che l'allenatore del Fulsberger Era lo stesso Che c'era Inizio ottobre Quando pareggiammo Gli 1 a 1 Forse Riccardo lo pensa No onestamente non mi interessa L'allenatore era Strouberg Che è una torta Che poi nel corso delle settimane Ha deciso Di andarsene Pensate In un championship Ad allenare il Barsley Tra l'altro è buono È un buon dolce Esatto È vero Con le mele Adesso in Pachina C'è Sali Che è un tizio Che è nato in Tunisia Un tizio Però è austriaco Che ha un fratello E tabacchi Sali e tabacchi E ci sta Complimenti Prego Paolino Gli facciamo i complimenti Quindi Manchester United AZ Alkmar 1 Io qui non mi pronuncio Non ti pronuncio Se posso avvalermi di un no comment Allora scusa Il Manchester United Il Manchester Già ti ha fregato l'altra volta Che ti hai giocato Contro la Stana In casa Rashford Ma farà giocare i bambini La decide Rashford Ma Se non gioca Però la decide Fa giocare i bambini È uguale La vincono uguale in casa La forza Contro la Z Tutti sti uno No Nardo mi insegna che boh Però dai su Partisan Astana 1 A 1 e 35 Belgrado è una squadra Abbastanza fredda L'Astana è una squadra Abbastanza elastica Invece Quindi no Bravi anche nel ciclismo Assolutamente Molto bravi Vabbè Poi Ghent Oleksandria 1 No Ghent È Ghent È Ghent E poi Wolverhampton Besiktas E qui voglio No ma tu te rendi conto Che partite che c'è stanno In Europa lì Ghent Oleksandria Ma che è Ghent Oleksandria Con chi gioca? Con il Besiktas Uno del Wolverhampton Voglio un pensiero Sul Wolverhampton Occhio L'hai seguito parecchio Quest'anno Sei appassionato Al calcio inglese Allenatore Molto bravo È una squadra Che negli ultimi tre anni Ha sicuramente Messo in campo Una grande crescita Non soltanto come squadra Ma anche come club Quindi vedo un uno Anche lì E poi è arrivato anche Un giocatore dall'Italia Giovane Promettente Un attaccante Un attaccante importante Che giocava in Italia Italiano Al Wolverhampton Sì Ah il giovanissimo Patrick Cutro Bravo Patrick Cutro Vedi Voi pensate Che viene fungolato Le cose Mi sai Io me lo prenderei Io lo porterei a Roma Così Fiducia in Cutrone La decide in Cutrone Non escludo Neanche io Non escludiamo Cosa non escludi No In generale Non escludo niente Della vita Mai Guardiamo che Petrachi Ha un filo diretto Con l'Inghilterra No Guardiamo i tanti acquisti Ne parlavamo però ieri In tv Da Vusto Ciardi Eh beh Cutrone non sta trovando Molto spazio Perché lì c'è Raul Jimenez Attaccante messicano Che pronuncia Jimenez Ho i brividi Attaccante messicano Fortissimo Che sta facendo benissimo E quindi Cutrone Non trova molto spazio Perché c'è questa coppia Jimenez Giota Giota Che funziona molto bene Spiritus Santo Come Ken Non trova spazio Che a te non piace Hai bollato Voi tra Ken e Cutrone Prendereste Ken Io Ken Giusto Io ci penserei Un pensiero su Cutrone Lo farei No Cutrone Non mi dispiacerebbe Perché Cutrone è un ragazzo serio Da un grande professionista Perché l'hai bollato Quindi Ken non lo è Questo è il duro attacco No Ken deve ancora dimostrare Tante cose Pure Cutrone Beh se dici che Cutrone è un grande professionista Paragonandolo a Ken Non aggiungendo che anche Ken Lo è Automaticamente non lo è Se io dico che Rocchetti è bello Non sto dicendo che Cutumaccio è brutto E lo penso Ecco questo ricordatelo anche quando Foste la situazione Le fai tecnici ogni 5 minuti Per favore grazie Ogni 5 minuti Questo meccanismo Cerca di registrarlo Tu che non lo si chi mai Chi mai Lo vedete il livore di questi tre Nei miei confronti Il livore Come traspare Come esce fuori È evidente E poi quello rabbioso sono io Però vedete la rabbia Loro nei miei confronti Come traspare Non è rabbia La nostra È invidia Ti posso dire una cosa in Calabro Ho paura La sono quasi paura Chiamo Cattuso Va cagato va No Va bravo Allora Questa è una bella cattiveria No Beh è un invito Io l'accesso Invitational Ragazzi riassumiamo i consigli di Paolino Che spara tutti uno Per questo Europa League Dinamo Kiev Lugano 1 Carabag Doudelange 1 Eintracht Victoria Gimaraes 1 PSV Rosenborg 1 Getafe Krasnodar 1 Roma Votsberger 1 United AZ Z Alkmar Bravo Paolo 1 Azzerra Partesana Astana 1 Ghent Alexandria Verente sta partita senza senso 1 Wolverhampton Besiktas 1 Ma poi sta domanda Io devo fare sta domanda Perché ormai sono so sei mesi Che parliamo Prego La domanda la voglio fare Ma Sta Alexandria È buona Ma non lo so Non l'ho mai incontrata Io lo sapevo Vediamo Osserra Ma la stasera Giustamente è Ucraina Ucraina Anzi È buona sicuramente Alexandria Venite a noi Ospite ai nostri studi Facciamo un collegamento Dai su Vabbè Fate piaccioni con club Scusate Io veramente Con l'Alexandria Vabbè ragazzi Fatemi da un consiglio Forza Così poi dopo Se ne andiamo Invece a fare La super classifica Ciao Ciao Pasqualozzi Volevo A nome della mia azienda Con sede a Roma Milano New York E Tivoli Augurare a tutti Buon Natale Perché parto oggi E non vi voglio più vede Ciao Ciao Pino Pasqualozzi che è un po' Il nostro Barry White Possiamo dirlo Sono Pasqualozzi La stessa voce La stessa voce profonda Io sono Pasqualozzi Non c'è niente pronto Una notiziola Una notiziola Sulla questione stadio Manca reagire così Sua notizia No perché lui è contro La presidenza Lo sappiamo Ieri Ho avuto un contatto Con Pallotta Che gli scusa Per quello che ha appena detto Lo sappiamo tutti Io sono amico intimo Di James Pallotta Ma come Ieri parlavi solo di Fritkin No Oggi che c'è lo stallo Mi ritorni Pallottiano Quando la nardo Essere amico di Pallotta Non significa essere nemici Di Fritkin Anzi Io sono amico di entrambi Li rispetto entrambi Prego Quando ha detto ieri Parlavi solo di Fr Ho avuto un attimino Di paura Sinceramente Di freddo Per fortuna Hai detto Fritkin C'erano notizie Stadio finalmente vicino Parlavano i giornali E lui mi ha risposto Nessuno mi ha detto questo Vedremo C'è una mano Ecco Bene C'è un volto sofferente Ragazzi questo è il Virgolettato del Presidente Scusate Scusate Un attimo di importanza Invece parlare del vostro naso Stavo soffrendo Con calma Non ce ne frega nulla Vedremo Queste cose le ho sentite Da quattro anni Noi continuiamo a lavorare Sul fronte stadio Queste erano Le parole La risposta del Presidente E poi Sulle ultime indiscrezioni Stallo Non stallo Trattativa vicina O meno Mi ha detto Sto morendo dalle risate Perché credete A tutto quello Che scrivono i giornali Queste erano Più o meno Le parole Del Presidente Che lo stesso Che il giorno prima Ci aveva detto Quando mai Hanno scritto la verità I quotidiani Quindi più o meno Il suo pensiero Era questo Ironico O meno che fosse Quindi La situazione stadio Rimane Rimane tale Vediamo un po' Se si sbloccherà Nei prossimi giorni Parlerà sicuramente Solo quando ci sarà Qualcosa da dire Di effettivo Grazie Paolo Bene Paolo Grazie mille Per questa puntualizzazione Trattativa Che continuiamo a seguire Con molta attenzione Ora però Il momento dei nostri ascoltatori Caro Riccardo È giunto il momento Della super classifica Post Ma Alexandria È quella che sta In Piemonte No? Popolo Ademus Gotumazzo Ah no Super classifica Post Che poi ne esistono due Quella d'Egitto No Di Ogitto In questo caso Di Ogitto Che era Piemonte Piemonte Ogitto Va bene Allora partiamo con Il nostro Anzi partiamo Intanto ripetiamo Il nostro post Prego Paolo Che è? Beh stasera si gioca a Roma A Volksberger O Volksberg Non si è ben capito Di chi non fareste Mai a meno in campo? Partiamo con le risposte serie Già il fatto che noi dopo sei mesi Stiamo ancora qui a domandarci Se si dice Volksberger O Volksberger Questo già ci dice tutto Siamo d'accordo Sulla fase a gironi Dell'Europa League Sono d'accordo Partiamo con il commento di Che c'è Paolo? Duro attacco Duro attacco Come al solito Però sei d'accordo? Se vero ma giusto Per me se vero ma giusto Enrico Monci risponde Non farei mai a meno Di una terna arbitrale All'altezza Di una competizione internazionale Vuoi salutare Enrico Monci? Sì lo saluto Ma Collum è stato radiato Nel frattempo Penso di no purtroppo Ma per radiato Non intendi assunto in radio Oppure? Assunto in radio Ah no Non abbiamo ancora Pare di no Tu che pensavi? Tranquillo infatti Ho chiesto quello Pensate che bello Noi tre con Collum Al posto di Paolo Roche Sai le pizze che volano Esatto Non so per lui quanto sarebbe bello Matteo Pili risponde Buona giornata Rispondete? Buona giornata Anche a te Esattamente Io non avrei mai fatto a meno Della coppia Smalling e Mancini Mancini Fazio Un po' mi preoccupa come coppia Ma è rotto Scelta forzata È rotto È costamente indisponibile Marco Lozzi Tra quelli che possono giocare Direi Geko In assoluto Non vorrei mai fare a meno Di Chris Smalling Alitarbus Luca Lucianus Risponde Non saprei Fine Questo è il commento di Luca Lucianus No in realtà Come prosegue La squadra sembra coesa Che bel termine Coesa Affiatata al di là di chi entra in campo Basta che ognuno giochi nel suo ruolo Abbiamo visto Zagnolo attaccante Un fantasma Anche se contro l'Inter Non ha ammaliato il 100% Direi che non possiamo fare a meno di una punta E falsi nove Alla Totti Non esistono più Ricordiamo coesa Dal latino Coez Giusto Che è un attuale artista Per me ha fatto un gran primo tempo Zagnolo da attaccante Pure secondo me Vabbè Un gran primo tempo Per me sì Ha fatto un buon primo tempo Non si è portato molto bene Non l'aveva mai fatto Ma lui lo dice per alzare il prezzo Poteva anche andare meglio Tra l'altro Il primo tempo è stato impetuoso Poi è chiaro Per carità Angelo Mecucci Buongiorno 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 Perché ora sono un gruppo Grazie a Fonseca Ma se dovessi scegliere Direi comunque Zagnolo Carlo Maurelli Buongiorno Buongiorno Non farei mai a meno Del mister Fonseca E noi siamo d'accordo Da questo punto di vista C'è anche qualche commento rabbioso Oggi li leggiamo con estrema calma Mirko Buonocore Fabrizio Soleri Terzo Di chi non farei a meno Gecco Di chi farei a meno Florenzi No L'abbiamo chiesto Fabrizio Stavo ascoltando la trasmissione Stavo ascoltando il mio grande amico Ah le immagini di stare concentrato È vero Oggi forse gioco Ma non so se ce la faccio Non sono più abituato E dal 94 che non gioco Ma te alleni tutti i giorni Sono più abituato a giocare Il time della partita Mi manca Però sono sempre il capitano Di questa squadra Un po' d'ansia Di questo gruppo Un sacco di ansia Sono emozionato Oltre questi qua Ma resta a gennaio Forsberger Ricordiamo In austriaco vuol dire Codomaccio 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 Basta Dico resta a gennaio o no Queste sono cose Che vedrò con il mio procuratore Con il mio agente Ma comunque avete il miglior uomo mercato su piazza Ve lo dice lui Vediamo Va bene grazie a Codomaccio È Luca Arci Diacono Codomaccio 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 Ma te ne vai a casa Che ti devi allenare Riposare E poi giocare Ma che modo è Ma stai Posa rispetto Per il capitano della Roma Ma quale rispetto Luca Arci Diacono Ma perché non pubblicate più I pronostici di Rocchetti Attenzione Perché Noi pubblichiamo i pronostici Sulla nostra pagina Cato Cotunardo Perché magari Devo dire onestamente Nei pubblicati oggi Con tanto di video C'è un Negli ultimi tempi Qualcuno ha duramente insultato Paolo Rocchetti Addirittura gli hanno bucato Le ruote della macchina E' vero E' vero Quindi per insomma Cercare di Pensate che Non proteggere Paolo Guido senza ruote Ma come fai scusa Guido senza ruote Vola Ma che macchina c'hai C'è una navicella spaziale Pensate che lo hanno Bullizzato per strada Gli hanno fregato le buste Della spesa E questo non si fa Non si fa Con i fruttini dentro Con il Nesquik Non si fa questa cosa Dovevo fare la merendina Erano le buste della spesa Che portavano Paolo Tra l'altro Non il contrario Questa era una grandissima Sottolineatura Jack Follia Si chiede Ma Cotumaccio Percepisce un compenso Per gigioneggiare Al microfono Paga di tasca sua Percepisce un compenso Ah perché gigioneggia Cotumaccio Gigioneggia Gigioneggia Andiamo ai gommetti ironici Senti che grande mashup Che ha fatto Mirko Bonocore Mamma mia Che opera d'arte Il grande montaggio Stavolta Del DJ Bonocover Daniele Cimino A lui piace montare Ricordiamo Beh fa il regista Insomma Beh bravo Fa il regista Sì Certo E con lui tutte le mattine Io chiedo scusa Che problemi avete Queste allusioni Se tolto Il Buonocore Che è una famiglia Io mi scuserei Con Mirko Bonocore Però vabbè Lasciamo stare Ho detto Scusa Ho detto che Ho detto che Un abile montatore Che ho detto Scusa Ma ho capito È la parola Che è fuorviante Mirko Purtroppo Fa fuorvi Le menti Di questi depravati Va bene Io non ho detto nulla Daniele Cimino Risponde Stasera non fare a meno Della borsa dell'acqua calda Farà a minimo meno 38 Allo stadio Che ha un clima a parte Rispetto all'emisfero boreale Ringraziamo che giochiamo a Roma Perché se era fuori 3-4 gradi Questa sera Ma l'altro Io Cotomaccio Siamo entrambi raffreddati Maledizione No In teoria Siamo convocai Brodino di pollo Io ho già detto Valentina Dovevo comprare Dei guanti E dei berretti Ma più berretti Altrimenti Stasera muoio Dei berretti Perché domani Non vorrei essere Sola qua Quindi cercate di Grande baglioni Fra l'altro È Malagò Che lo scusa Fabrizio De Santis Non farebbe a meno Del portiere Questa è la battuta Di Fabrizio Emanuele D'Innocenzo Non farebbe a meno Del pallone Questa è la battuta Di Emanuele D'Innocenzo Ma che battute sono? Vabbè Paolo Maledè Io in campo Non farei mai a meno Degli scarpini Ma attualmente Sono ipotecati John Gamble Se hai giocato In realtà Li puoi riscattare Paolo John Gamble Non farebbe mai a meno Di un rocchettino In versione guardalinee Che grida all'arbitro Il fuorigioco Immaginate Paolo Che fa il guardalinee No Non ho mai fatto Non ci tengo Che la linea del pallone La segue la stessa altezza Non ci tengo proprio A fare Il suo mestiere ideale Ma per niente Che potrebbe seguire Era un grande attaccante Quando gioca Con la serenità Che c'ha Paolo Se magna i giocatori Come gli dicono A È vero Ragazzi E poi Ecco Poi il degrado E poi di botto Il degrado Il degrado più assoluto Il tracollo Flavio Maria Tassotti Andiamo al commento Di Stefano Lavarda Lavarda Paolo Rocchetti Fluidificante Di destra Turnover per Dzeko Kolaroff Veretù E Pellegrini Lo posso fare quel ruolo Chiamo in causa L'anticipo Il maestro Tabarez Davide Vanadia O Vanadia Schiererebbe Salvatore Titolare Sentiamo se è disponibile No c'è un equivoco Non puede Qual è? Il mio è Salvatore È Salvatore È vero È vero È il maestro Maestro Alberto Sordi Io ascoltavano Questa trasmissione È sempre mattina Radiofonica Radiofonica Solo che adesso Arrivavano questo Vostro amico Redattore Chi è? Tassotti? Flavio Tassotti È questo grande redattore Lei mi può aiutare Tassotti Perché io ho questo telefono Tassotti Questo telefono Avenor Avenor Non c'è un negozio di telefonia Tassotti Mi aiuta a fare questi simpatici acquisti Su Amador Amador Che ricordiamo non è Però non riesce a telefonare Questo telefono Amador Fa gli amaretti Io compongo il numero Il 3 4 9 4 5 7 8 9 10 14 12 24 75 Forse è un po' troppo lungo Che è il numero della hotline di Rocchetti Ma come hotline? La hotline Hotline detto bene però da maestro Mi dissocio Faccio le videochiamate con Rocchetti Maestro Lo fa partire Salvatore Solo che questo telefono Non telefona Capito? Immaginiamo quella coperta che ha addosso Come si fa per Che schifo Che cosa orrenda Va bene maestro Arrivederci Arrivederci maestro Non ci è mai stato utile La serenità del maestro Ricordiamo tutti che è disponibile In esclusiva La cedrata Tassoni Sì La Tassotti volevo dire A 79 centesimi Che è quella vera A quanto? 79 centesimi A noi fino a non ci arriverà Una fattura di quelle Che lasciamo aperte Gigantesche La paga con tu mazzo Vai avanti Va bene No è finita qua La super classifica post Ma su Twitter? Su Twitter? Niente Su Twitter Abbiamo lanciato il post Senza opzioni Vabbè ma sei stato un po' scherzo Di una barzelletta Fai qualcosa No vabbè possiamo salutarci Ce ne avrei un paio Pensavo ci fosse dell'altro Va bene Allora grazie a tutti Per aver contribuito Anche questa mattina Alla super classifica post Grazie a Paolo Rocchetti Grazie a voi ragazzi E tra poco ragazzi Attenzione Un compleanneschissimo Daniele Un monologo Pronti per gli auguri Wow 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 Grazie a tutti.